Luca Scandale, direttore generale di Puglia Promozione. Noi siamo in questo incantevole cornice, la BAT, il turismo, la promozione. A che punto siamo? È il più bel luogo dove abbiamo mai fatto un forum sul turismo e sulla cultura. Siamo con Puglia 365, abbiamo completato tutte le province, chiuderemo a Brindisi d'8. È una fase nuova, una fase in cui la cultura deve autonomizzare le sue prospettive rispetto al turismo. Diciamo che in Puglia sta esplodendo questa stagione, è un grandissimo successo per tutti. Trani è una chicca, ma anche tutta la BAT. Abbiamo visto quello che è accaduto con Gucci ad Ambria. E sono convinto che anche la Puglia imperiale avrà il suo futuro degno di nuoto.